Musica Siamo alla Metrala National Park, un luogo incontaminato a soli 40 km da Batumi, la capitale della Giaria, una repubblica autonoma della Georgia. Oggi siamo fortunati perché c'è il sole, questo parco nazionale, il Mthirala, è considerato il posto più piovoso del paese. Qui si respira sempre aria fresca e profumata, ovunque ci sono fiori e moltissime piante, è un sito protetto per la flora e la fauna, all'interno del parco si trovano molte specie rare e in via di estinzione. Mthirala, tradotto, significa montagna piangente, in questo posto spesso c'è nebbia e pioggia, ecco da dove deriva il nome. Situati a 1500 metri sul livello del mare, i sentieri della Mthirala sono perfetti per escursioni, birdwatching e passeggiate. Situati a 1500 metri sul livello del mare, i sentieri della Mthirala sono perfetti per escursioni, birdwatching, 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 birdwatching. Grazie a tutti.